Il calendario giuliano e quello gregoriano di quest'anno hanno fatto coincidere la Pasqua. I cattolici della Valla Alta Stilaro e la comunità dei monici ortodossi del monastero di San Giovanni Terestis di Bivongi celebrano insieme domani la resurrezione di Cristo nello stesso giorno. Siamo a Bivongi, siamo con Don Nicola Comesu, con Don Enzo Chiodo, ci apprestiamo ad entrare nella Pasqua. Quest'anno Don Nicola si viveva un momento particolare perché i calendari giuliani e il calendario gregoriano fanno coincidere questa data, un fatto un po' raro e poi Bivongi è particolarmente interessato a questo perché c'è una comunità di monici ortodossi che vive al monastero di San Giovanni Terestis. Sì, noi siamo dentro anche alla questione del calendario, delle volte quello che gli uomini non fanno per fare in modo che le strade dei cristiani siano concordi, siano anche manifeste di una certa comunione, delle volte i calendari, le coincidenze ci fanno vivere queste occasioni. Quest'anno è forse l'occasione per sperimentare questo senso di vicinanza tra le confessioni cristiane, lo si è visto già in questi giorni a Santo Sepolcro perché lì è il luogo in cui per eccellenza delle volte si manifesta proprio la divisione delle confessioni che vivono i ritmi della Settimana Santa in periodi diversi. In questi giorni invece c'è stata una certa concordia, è stato bello, abbiamo su internet, seguiamo i filmati, è possibile farlo molto più facilmente oggi ed è manifesta questa comunione anche proprio nella stessa Basilica del Santo Sepolcro. Qui a Bivongi in un certo senso si riesce a vivere la stessa cosa in questi giorni perché nella comunità cattolica, la comunità ortodossa che vivono della stessa fede, nello stesso luogo possono vivere un po' questa concordia e sperimentarla insieme, nel senso che la via è la stessa anche se ci sono dei ritmi, se ci sono dei gesti, se ci sono delle ritualità che si differenziano perché sono frutto di patrimonio e di cultura diversa, anche se ci sono molte cose che magari ritroviamo anche nella nostra devozione popolare, quindi alcune cose ci avvicinano ancora di più forse quando riusciamo a viverli in quei momenti che sono fuori dal rituale, che sono affidati un po' alla creatività delle persone, che risente di quell'ambiente che abbiamo vissuto per tanti secoli. Ecco, proprio parlando di Bivongi, possiamo dire, Don Enzo, lei l'ha vissuto, un ecumenismo che è partito proprio da Bivongi perché già dal 1994 quando sono arrivati questi monaci è iniziato quel ponte con l'Oriente. Sì, è una comunione molto spirituale ma anche molto fattiva che sia la parrocchia, sia la dioce sia vissuto e continua a vivere con i monaci che hanno abitato questo luogo. Certamente questo ci fa onore ma ci stimola sempre di più nell'impegno di trovare sempre ciò che ci accomuna e di mettere da parte invece sempre ciò che ci divide. A Bivongi è dal 1994 che si celebrano le due Pasque e in questi giorni nel monasterio di San Giovanni Terestis sono svolti i riti della settimana santa ortodossa. La coincidenza pasquale ha facilitato la partecipazione alle sacre celebrazioni ai fedeli ortodossi romeni, slavi o giorgiani stabiliti nella nostra provincia. Anche altri pellegrini ortodossi sono giunti da altre regioni italiane e dall'estero. A loro si sono uniti quanti desiderosi di conoscere gli antichi riti pasquali praticati per lunghi secoli in Calabria, non estranea all'origine di varie tradizioni locali sussistenti ancora oggi nei nostri paesi. Oggi a mezzogiorno c'è stato il grande Santo Sabato, il primo annuncio della resurrezione di Cristo, disceso nell'Ade per liberare dalla morte Adamo e tutta l'umanità. La notte alle ore 23 la veglia pasquale con la processione, l'annuncio della resurrezione e la celebrazione liturgica notturna. Domani grande presenza di pellegrina ad assistere ai riti pasquali e nel pomeriggio alle ore 18 gli ortodossi celebreranno i Vespri alla Cattolica di Stilo con una processione fino al piazzale del Convento delle Clarisse. A giorno 16 al 22 aprile tutta la settima pasquale, detta settimana del rinnovamento, costituisce nel calendario ortodosso un unico gioioso giorno, contrassegnato dal sonno di campane, dal canto dell'inno pasquale della vittoria di Cristo sulla morte e dal ripetuto saluto Cristo è risorto, al quale si risponde per 40 giorni fino all'ascensione è veramente risorto. Penso che questa presenza qui a Bivongi ha anche un grande impatto sociale, nel senso che questa capacità di convivenza pacifica stimoli anche la comunità civile e stimola anche la società tutta a comprendere come in Cristo è possibile mettere insieme le differenze. Buona Pasqua allora. Auguri e buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua e appuntamento tutti a Bivongi la sera con il grande musical che hanno preparato i giovani che ha un taglio particolarissimo, è una rilettura della passione a partire dall'amore di Maria Maddalena verso Gesù.